5 milioni e mezzo di euro per rimettere a nuovo il sistema idrico, fognario e depurativo di Bitti è quanto prevede il progetto stirato dai tecnici di Abanoa che hanno approntato un piano che servirà a ricostruire le reti e gli impianti devastati dell'alluvione del 28 novembre. I progetti sono stati presentati alla protezione civile per i successivi passaggi burocratici. I danni nei sottoservizi idrici e fognari sono stati ingenti, si legge nella nota di Abanoa. Più di 5 km di condotte danneggiate da via Cavallote a via Brigata Sassari. Danneggiate anche i pozzi in località Macaronare, il partitore di Cucuredu e il serbatoio Alto. Sul fronte fognario è stato devastato l'impianto di trattamento a ridosso del rio Mannu e danneggiati diversi collettori. Gli accertamenti sono stati portati avanti dai tecnici di Abanoa con video ispezioni attraverso sonde e mezzi dotati di sistemi di aspirazione dei detriti ancora presenti. Fin dall'inizio dell'emergenza, sottolinea la nota, le squadre di Abanoa hanno avviato i lavori di ripristino del servizio idrico in via emergenziale con tubature volanti di bypass alle condotte devastate dalla piena. Operazioni che sono state seguite direttamente sul posto dai responsabili regionali dei settori interessati ma anche dal presidente di Abanoa, Gabriele Racugno e dall'amministratore delegato, Fernando Ferri. Saranno rifatti integralmente le condotte e gli allacci di via Cavallotti, via Montanara, via Roma, via Nuoro, via Trento e via Brigata Reggio. Saranno risistemati i pozzi e i serbatoi con la sostituzione delle strumentazioni idrauliche ed elettriche oltre che con ripristino del sistema di telecontrollo. L'elenco degli interventi definitivi, conclude la nota, potrebbe modificarsi all'interno del piano generale di messa in sicurezza dell'abitato se dovessero rendersi necessarie modifiche strutturali di più ampio impatto legato allo spostamento di opere idriche e fognari esistenti e alla realizzazione di ulteriori nuove opere.